Sei pronto? Tu mi devi spiegare una donna incinta che ci faceva là dentro. Mi è successo qualcosa di brutto? Perché tu quando ti capita qualcosa, sai subito se una cosa bella è una cosa brutta. E chi è il padre? Ma Paolo, non è così importante il padre. Ma ci sono che lui sappia, poi decidete insieme. Se lo so che il furgo ne serve, lo so. Devo fare una cosa però, devo fare una cosa importante. Devi essere sincera almeno questa volta. Chi è il padre? Tu sei una persona buona. Pronto Mario? Tutto bene? Sì, credo di sì. Io credo di no. Quanto tempo siete stati assieme? Otto anni. Perché è finita? Perché buono la casa, la famiglia, i figli. Ma tu un figlio lo vuoi o no? No. Dimmi qualcosa. Sei bello. Per la prima volta ho visto un futuro. Senti. Proverà. E poi, per la prima volta ho visto un nuovo accord.